Eccoci tornati in questo nuovo video, recensione della Battlestar di casa Smovanto 200W E' bello ragazzi, la box è esteticamente bella, copia della RX, si, e andiamo a vederla da vicino, che dici? Smyster e Salma? Andiamo a vedere da vicino, poi prova di svapo e considerazioni finali, vabbè ragazzi, eccola qui la nostra Battlestar di casa Smovant, ci vediamo fra poco, ci vediamo fra poco Ed eccoci qua, la Smovant Battlestar vista da vicino, scritta Smovant, Battlestar 200W TC Mod, piccola, compatta, ergonomica, adesivo con la scritta del colore, box disegnata, 200W TC Mod, Battlestar 200W, l'abbiamo capito TC, variwatt TC e TCR, piccola, compatta, ergonomica e anche questo l'abbiamo capito Buchi di ventilazione per le batterie, cover magnetica, due batterie 18650 e dei colori che poi si sono aggiornati QR code per la tonticità del prodotto Codice a barre, andiamo ad aprire la scatola Troviamo dentro un manuale di istruzioni italiano, inglese e cinese, di cui non ce ne facciamo niente Altre prompt card, in inglese e in cinese, di cui non ci facciamo niente E un certificato di controllo qualità, di cui non ci facciamo niente La box si presenta qua, eccola qui, bella, gialla e nera, nera e gialla Eccola qui, piccolina, economica, perché è un clone dell'RX23 Però ha un filo rosso che non si dissalda Qui all'interno troviamo un cavetto USB per la ricarica E anche dei magneti sostitutivi per gli sportellini delle batterie Adesso andiamo ad aprire lo sportello delle batterie Notiamo dei contatti negativo, positivo, negativo, positivo Quindi sono montati in serie e i positivi sono a molla Vediamo che hanno anche un bel cammino Andiamo ad inserire adesso le batterie con il polo positivo verso i poli che si respingono Andiamo a montare lo sportellino che è magnetico E vediamo la box che si accenderà sola Adesso ha una potenza regolabile da 1 a 200 W Adesso non ve lo faccio vedere il 200 W Però fidatevi che ci sta Andiamo a impostare sui 57 W La box non vi dico che fa 200 W reali Però ci si avvicina, si ferma a 130-140 Con tre clic e entrate nel menu Potete scegliere tra la modalità vari W Ni, TT, che sarebbe per il titanio SS per l'acciaio Ni, Chrome, TCRM1, M2, M3 Andiamo alla modalità W Con il pulsante più e il pulsante più Potete fare invertire i colori dello schermo Con il pulsante più e il pulsante meno Non fate assolutamente niente Con il pulsante più e il pulsante meno Ruotate lo schermo E lo potete girare come più vi fa comodo Adesso andiamo ad inserire sopra un atomizzatore E vi faccio vedere anche quest'altra Chicca della box Che è per la selezione Nuova coil O vecchia coil Quindi le coil si bloccheranno automaticamente Quando andate in modalità TCE, TC e TCR Vedete ho letto una coil da 0-17 Adesso andiamo alla prova di svapo E alle considerazioni finali Ed eccoci qui dopo le considerazioni Da vicino della Battlestar di Smovement La possiamo apprezzare ancora qui Come clone dell'Air X23 Senza non dare l'idea di mettere la terza batteria Però ragazzi Io ve la consiglio assolutamente al posto di quella In quanto questa non vi porterà mai problemi Ai fili del PINI 510 Adesso Andiamo a farci un paio di svapate Ci togliamo il cappello E me lo metti tu e io Adesso La box esteticamente a me piace molto Anche a me piace Già l'abbiamo parlato nei scorsi video Che la box è molto bella Esteticamente un colore anche vivace estivo Le funzioni diciamo che per quanto costa Fa tutto quello che vi serve Fa tante funzioni Per 30 euro ragazzi Non ne volete di più I watt di spada Secondo me si firma a 150 Però lo voglio dire a 200 Vada bene secondo me va oltre 150 watt Siamo lì Dipenderà la resistenza che fate ragazzi Logicamente non potete pretendere Da una volta e batterie Che si facciano I watt di volte che fanno tre batterie Anche lo schermo Molto facile da leggere Sì Cioè anche se ho fatto le batterie Non so se le si riesci a vedere Dalla telecamera Porta le tacchette come il cellulare Come il vecchio cellulare Come il Nokia 3310 Bravissimo C'ha Un sacco di informazioni 5 tacchette È per l'ultima lampeggio Quando si stava a scaricare Molto carina Bella Schermo pulito Una lettura degli ohm Da 0,10 Fino ai 3 Sì Quindi un range perfetto Sotto la lettura degli ohm Ci sono i volts Che erola Quindi da un aggiornamento In tempo reale Vedete I volt aumentano Ebbè Cosa abbiamo più da dire Giudizio estetico 7 9 9 9 È bella ma non è stacetto Come colori Come forma C'è qualcosa che non va Per me vince Per me vince Un circuito Diciamo che è un circuito Da tutti i giorni Un circuito di battaglia Diciamo così Un circuito che lo ha sbattete Per l'arte Infatti Quindi un otto più Il circuito passa E per quanto riguarda Il complesso Quindi siamo sui Giudizio personale Un otto Otto più Sì Anche per le prestazioni Io gli do comunque Un otto Perché secondo me Perdere le prestazioni Rispetto a delle box Di questa fattura Possiamo ricordare Le varie sigelle Beh Allora ragazzi Questa era la Smoant Smoant Basta è stata A 200 watt Controllo della temperatura Che In controllo della temperatura Abbiamo visto Che comunque Rende bene C'ha un'erograzione Abbastanza lineare Non perfetta Noi stiamo parlando Certo di una DNA Però comunque Una box di tutto rispetto Questo è vero Me la consento Di consigliare A chi vuole iniziare A svavare A fare nuvoloni Perché per 30 euro Sono cordo Sono cordo Magari con 60 euro Vi prendete Tutta la combo Poi ci mettete le batterie Anche con il Butterstar RTA Così è perfetta Così È un colore che spacca Bello estivo Fresco Così Per tutti i giorni Ci sono anche Delle colorazioni nuove Che loro hanno rilasciato Da poco Come la colorazione Accobaleno E la colorazione Camouflage E ragazzi Ragazzi Questa è la Battlestar Battlestar RTA Battlestar Box Ci vediamo Ci vediamo In un prossimo video Dove non vi direvo Di cosa parliamo Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao 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 Grazie a tutti.